Esiste un luogo magico in Sicilia, incastonato tra mare e montagne. Questo luogo è stato attraversato da più di mille e uno popoli. E proprio qui mille e una menti geniali sono nate. Qui si sono combattute battaglie e create tante meraviglie. C'è stata la fame, ma anche la ricchezza. Hanno governato re valorosi e leggendari, ma anche impavidi mascalzoni. Viaggiatore di altri mondi, arrivando qui, hanno deciso di restare. E gente semplice dal cuore tenero l'ha lasciato a malincuore. C'è addirittura chi dice che da qui sia passato Dio in persona. Tra santi e briganti, guerrieri e proprietari terrieri, mille e una storie sono nate. E da adesso in poi le racconteremo tutte, una ad una.